L'amministrazione di Vallo della Lucania, guidata dal sindaco Tony Aloia, si tiene al passo coi tempi anche nell'emergenza Covid-19 dal punto di vista tecnologico e dispone l'attivazione di PAC, un'applicazione che consente l'immediata comunicazione tra comune e cittadino al fine di diffondere tutte le informazioni necessarie per affrontare la situazione di crisi. L'applicativo mobile PAC, acronimo di prevenzione e protezione e ambito comunale, è sviluppato da un'azienda di Avellino, la RDT, ed è stata concessa al comune vallese a titolo gratuito per il periodo necessario a monitorare e prevenire un possibile contagio. Fra le funzionalità dell'app si può elencare il canale di contatto continuo che crea fra cittadini e distituzioni la possibilità di creare in tempo reale avvisi e allerte, permette di censire la popolazione e il relativo stato di salute nel rispetto della privacy ed anche la capacità di mappare tutti i punti di riferimento ed emergenza necessari. La sperimentazione dell'applicativo mobile è stata approvata e deliberata dal comune di Vallo della Lucania, a cui verrà dedicata questa tecnologia che può rivelarsi davvero importante.